Stai mettendo a Raventaglio vent'anni di carriera per vindicare i tuoi ex compagni di scuola. Nel nostro cinema italiano Riccardo Milani è diventato veramente ormai un asso, quindi cosa ha significato per voi ricevere la sua chiamata e anche poi com'è stato stare sul set con lui e cosa significa il suo cinema oggi? Ricevere la sua chiamata mi sembra qualcosa di sacro proprio, no? E un po' è così, io ho un rapporto personale con Riccardo che va avanti da vent'anni, sì, vent'anni, è il primo che mi ha fatto recitare davvero, non ho fatto il mio primo film con lui, però è il primo che mi ha offerto un ruolo in cui potevo fare delle cose che non erano assomigliare a me stessa e poi ci ho lavorato ancora in televisione, quindi lo amo e lo odio da tanti anni, perché comunque è una persona sul set molto, 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 posso dire un altro, molto esigente. Tutto questo lo fa con grande ironia, quindi è una trappola, subdolo Milani, appunto, lo amo e lo odio, però essere qui è sicuramente un'occasione, innanzitutto ho lavorato con questi ragazzi e non solo con loro, ma con gente, cioè è incredibile che ancora oggi sono una vecchia attrice stanca e noiosa, io ancora conosco della gente che mi stupisce per bellezza, quindi in realtà questo film è falso, non è vero, io incontro sempre persone garbate, educate, rispettose, loro lo sono, lo dico guardandoli in faccia, non lo dico per piageria, cioè, non so, negli ambienti in cui mi muovo comunque assaporo ancora la bellezza del rispetto dell'altro essere umano e del garbo e della morbidezza, non so, l'educazione, non do a prescontato certe cose. Prego. Felicissimo di questa chiamata, perché mi convertirò al milanesimo. 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 No, nel senso, felicissimo perché Riccardo mi ha detto dopo, quando ci siamo incontrati durante le prove, che gli sono venuto in mente dopo che aveva visto un mio post della riscrizione in università, parlando dell'importanza dell'educazione allo studio e della necessità di approfondire le competenze. Questo post evidentemente lo ha colpito e mi ha chiamato. Secondo me è scritto il personaggio dopo aver letto il post, te lo dico, sei stata l'ispirazione. No, questo lo dico perché dietro a un asso, come lo hai definito tu, secondo me c'è un uomo e un gruppo di lavoro intorno a quest'uomo, che è fatto di Paola, che è fatto di Furio, di Giulia, che scrivono e costruiscono progetti a partire da dei temi profondissimi e condivisibili con un pubblico. a 360 gradi e questo oggi è molto particolare, nel senso che quello che era una delle particolarità della commedia all'italiana degli anni Sessanta, che si parlava, in cui si parlava di quello che succedeva realmente per la strada, oggi il nostro cinema fa più fatica a farlo questa cosa e secondo me lui con Paola lo fanno a altissimi livelli. Allora io invece quando ho ricevuto la chiamata, che poi è stato un primo sms su una questione, diciamo, ho ricevuto un sms perché era come dire, peccato sì, c'era, mi è arrivato un messaggio che mi diceva che peccato, no ma tu credimi, stiamo facendo queste interviste, è un po' che facciamo le interviste, raccontate sempre delle storie sorprendenti. Questa era ovviamente una cosa che stavo inventando, però allora il discorso, sì stavo inventando, aspetta adesso vado con le cose vere, allora il discorso è questo, allora quando ho ricevuto la chiamata di Riccardo simbolica, nel senso che è arrivata la notizia dall'agenzia eccetera, sono stata felicissima perché chiaramente per varie ragioni, intanto perché ero felicissima di lavorare con loro due, con entrambi, sia con Riccardo che con Paola, poi la chiamata mi è arrivata il giorno prima che io firmassi un contratto che mi avrebbe impedito di fare questo film, quindi è stata una cosa di una casualità incredibile, devo ammettere che è stato complicatissimo il giorno prima gestire questa cosa, perché è vero, questo è vero, e però ho deciso di cambiare tutto, no dovevo firmare il contratto teatrale che iniziava il giorno dopo e quindi c'è stato un cambio necessario diciamo, che non è stato semplice, però sono stata molto contenta di averlo fatto perché era un po' che speravo che succedesse. Magari c'era la mano di Paola anche dietro il contratto. Esatto, sì non lo so, c'era pur sempre lei che avrebbe stracciato, no comunque a parte tutto insomma è stato complicato e mi dispiace che è stato complicato anche per l'altro impegno, però insomma quando senti una cosa che ti spinge così tanto, cioè devo dire che non ho avuto resistenze nel decidere questa strada. Nel film si parla molto anche di sopravvivenza, cioè come sopravvivere al nostro paese e anche dei vizi che ci sono, quindi mi domando come sopravvivete a questo paese ma anche al cinema nel nostro paese. È proprio questo che si ricorre alla sopravvivenza, che è uno stato ibrido, è un limbo la sopravvivenza, io preferisco vivere pienamente la mia vita e non sopravvivere, quindi faccio delle scelte ben precise, faccio degli errori naturalmente, però perché ti sto dicendo questo? Mi sono persa, chiedi la macchina. Qual è la domanda, scusami non ho capito. Come sopravviviamo? Come si sopravvive a questa carriera e a questo cinema italiano visto che adesso c'è la pepa Claudia. No, no, sai come si sopravviva al cinema è difficilissimo, una su tutte è oggi la notizia che vogliono chiudere Rai Movie, ora non sei l'interlocutore giusto con cui parlare di questa cosa, però facciamo sempre più fatica, sempre più fatica, se c'erano delle piccole trappole per portare uno spettatore a innamorarsi del cinema stanno chiudendo anche quelle, è molto faticoso, forse non sopravviveremo, non so che dirti, veramente sono un po' spaventata. Io sono fiduciosa e per chiudere, visto che non abbiamo più tempo, proprio una domanda secca. No, dai ma qualcosina, Vinicio di qualcosa. La domanda secca, allora Vinicio, a cosa si sopravvive, sempre per sopravvivere di più, a una missione segreta o a una rimpatriata del liceo? Ma no, si sopravvive a una missione segreta, la rimpatriata del liceo è la morte ragazzi, o per ubriachezza oppure per sfinimento, oppure la depressione ti mangerà negli anni successivi. Ma non è così. Ma come, gli antichi rancori, ma si fatta? No, 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 la missione segreta è un elemento salvifico che ti fa portare l'adrenalina, i reni, pulsano, sei vivo, sopravvive in qualche modo per portare a casa la pelle. La rimpatriata è, cioè siamo in pieno ceco, offre il giardino dei ciliegi, lo spleen e la desolazione. Ma quanto tempo? Selfie! Ma come sei? Mi scusi, è un po' raffreddato. Dai, ci morro c'è sto ragazzino. Dai, ci sufferò. Dai, ci volsiamo. Dai, ci sono i eroi. Ah! Europi –